ciao a tutti e bentornati quando si parla di musica rock e di rock come genere musicale a sé stante non rock n roll non blues eccetera eccetera è necessario probabilmente pensare a un album che ne ha segnato l'inizio e anzi secondo tanti musicisti tra cui bruce springsteen più che un album a una canzone anzi restringo ancora di più il campo più che una canzone all'inizio di una canzone al colpo di rullante che c'è all'inizio di like a rolling stone like a rolling stone è la traccia d'apertura del disco del 1965 di bob dylan highway 61 revisited ed è una canzone fondamentale in un album altrettanto fondamentale è una canzone fondamentale perché appunto secondo springsteen come elvis aveva liberato i corpi di chi li ascoltava dylan aveva liberato le menti e quel colpo di batteria all'inizio è quello che fa capire a springsteen che quella è la musica che vuole fare quel tipo di musica che è una musica che non è più solo il rock n roll che è sostanzialmente una versione bianca e più veloce del blues oppure non è il blues non è il folk è un tipo di musica che da tutte queste da tutti questi generi prende avvio e prende ispirazione ma che diventa qualche cosa in più e in più è una canzone con una storia straordinaria incredibile perché è sostanzialmente una sorta di miracolo esiste un libro di grail marcus che racconta esattamente la storia di like a rolling stone e spiega che la registrazione che si sente nel disco è una registrazione sostanzialmente fatta in un unico take all'epoca non c'erano multitraccia sovra incisioni eccetera 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 in un unico take che con quella potenza precisione e perfezione non era mai riuscita prima e non riuscì neanche dopo il libro ve lo faccio vedere il libro è questo che si intitola proprio like a rolling stone di grail marcus grande critico musicale americano e racconta veramente tutta la storia minuto per minuto quasi secondo per secondo della sua realizzazione ma highway 61 revisited è molto di più non è solo like a rolling stone è il pezzo fondamentale importante ma è anche appunto il disco che trasforma bob dylan da profeta del folk revival a cantante rock partiamo dal titolo cominciamo a discutere del titolo di questo album perché la highway 61 se la trovo vi metto in sovraimpressione una mappa di questa strada è un interstatale che dal minnesota si dirige verso sud lungo il corso del fiume mississippi e arriva praticamente fino al golfo del messico in louisiana e di fatto come dire parte da non lontano da duluth cioè dove è nato robert zimmerman passa per tutte le zone e tutti i vari stili del blues dal blues del delta tutti quelli lungo appunto lungo il fiume mississippi e dylan sostanzialmente nelle nelle canzoni questo disco tira fuori tutta una serie di canzoni che sono sostanzialmente dei grandissimi blues moderni per l'epoca cioè un blues che non è un blues classico è un blues adattato al momento in cui lui scrive questo album che sostanzialmente trasformano il genere lo fanno diventare qualcos'altro tutte le canzoni dell'album hanno una struttura tipica del blues ma sono suonate da una band elettrica e questo è il grandissimo cambiamento che dylan fa forse non proprio nel blues ma sicuramente nel nel suo modo di suonare esiste un documentario che racconta esattamente il tour successivo all'uscita di avvi 61 revisit quello in cui dylan sostanzialmente aveva diviso il suo set in due parti la prima parte era quella che riprendeva le sue vecchie canzoni il suo vecchio stile quindi era lui sul palco con la sua martin se ricordo bene acustica e la sua armonica che suonava i classici del folk e le sue e le sue canzoni con gli album precedenti come the free will in bob dylan eccetera gli inni che avevano entusiasmato che l'avevano trasformato sostanzialmente nel profeta del folk revival e dell'artista principale che si esibiva per esempio al festival di newport ma nella seconda parte dylan faceva salire sul palco una band elettrica lui suonava strato caster tutti strumenti elettrici e come dire suonava in maniera completamente diversa suonava il rock suonava quello che oggi diremmo il rock e il pubblico che andava a vedere dylan non tutti gradirono e apprezzarono questo cambiamento anzi in alcuni casi dylan venne apertamente contestato per questo cambiamento a tanti anni di distanza quasi 60 anni di distanza è ovvio che non sono nella posizione non siamo nella posizione di giudicare un cambiamento di questo genere ma dobbiamo prendere atto solo del fatto che questa svolta probabilmente almeno per come la penso io è una svolta fondamentale importante e bellissima perché ha prodotto un disco che è un assoluto capolavoro appunto non c'è solo like rolling stone ci sono pezzi come tombstone blues queen jane approximately approximately eccetera che mostrano il fatto che in quel momento dylan aveva un ispirazione come dire era non lo so se al massimo della sua ispirazione ma a un punto molto alto della sua ispirazione probabilmente il nobel del 2016 anche quello molto contestato e da alcuni non da me ammetto ritenuto molto discutibile non è dovuto a queste canzoni qui o a questa svolta perché questa è una svolta più musicale che tra virgolette letteraria però sicuramente queste canzoni all'interno della storia della musica moderna sono canzoni importantissime perché appunto segnano una differenza è un punto di incrocio tra un certo stile musicale che fino a quel momento c'era e altri suoni che vengono da altre parti e che creano quindi appunto questo genere nuovo che è quello che è il rock che diventerà poi anche nelle sue forme pesanti levi metal eccetera eccetera non che dylan sia il padre dell'evi metal sia chiaro però senza probabilmente la svolta elettrica di dylan è difficile pensare a canzoni o a band come potrebbero essere i credenze creed water revival e a suoni di questo genere o comunque a chitarristi che cominciano a sfruttare la chitarra elettrica in un certo modo come non era stato fatto prima l'album tra l'altro si chiude comunque con una con una lunga canzone perché dura ben undici minuti sono pezzi sono anche pezzi lunghi la croissant dura più di sei minuti quest'ultima traccia desolation bro ne dura 11 ed è invece una traccia del dirham vecchio stile due chitarre acustiche l'armonica e lui che canta e che riprende la sua forma tra virgolette originaria e la espande per raccontare la storia di questa di questa strada appunto via della isolazione dei gregori la sua versione la tradurrà con via della povertà è un disco fondamentale perché appunto è di quelli che segna un primo e un dopo è un disco fondamentale perché fa uscire dylan down da un solo genere che lui dominava e lo trasporta in un campo molto più ampio in cui avrà comunque tantissime cose da dire è un disco fondamentale perché è uno di quelli che vanno ascoltati per capire tutto ciò che è avvenuto dopo io vi ringrazio per essere arrivati fino qui vi ricordo che se volete qui sotto potete iscrivervi al canale potete mettere un mi piace potete attivare la campanellina per ricevere le notifiche di nuovi video potete lasciare un commento dicendomi che cosa ne pensate di questo disco di tilano per suggerirmi per suggerirmi altri album classici di cui parlare vi ricordo che sempre qui sotto in descrizione trovate il link per comprare il mio libro but we're not the same edito da arcana in cui racconto i migliori album degli u2 secondo me trovate anche il link per ascoltare su spotify the perfect song il mio podcast in cui racconto un po di storie di canzoni che hanno storie da raccontare trovate gli episodi anche qui sul canale anzi vi ringrazio per il successo che stanno avendo vi ringrazio ancora una volta vi saluto vi ricordo che sono daniele funaro che londra fonda e io vivo giù nel fiume ci vediamo alla prossima